Burloni, oggi avremo 0,000001% di vita, guardate la mia vita, è un solo pixel rosso, è bella faccia e tu mi accompagnerai in questa grandissima sfida. Tu sei fuori di testa, sì? Sì, sono un po' fuori di testa, effettivamente. Questa vita qua è particolare, perché se io vado su un blocco intero, guarda, muoio. Eh? Eh sì, qualsiasi blocco intero mi fa morire, perché l'unica cosa che puoi fare con questa vita è andare sulle slab basse. Ma perché mi devi portare in questi mondi, Marci? Adesso devi iniziare, boss. Il primo che arriva alla fine vince. Guardatemi, allora, noi avremo anche 0,00000 fuori, ma voi dovete lasciare 3,000001, mi piace, 30.000, mi piace. 30.000 mi piace, forza, andiamo, dai. L'inizio è abbastanza semplice, penso, è l'unica cosa che ho testato, perché non me la sono voluta spoilerare la mappa. Ah, ovviamente abbiamo anche 16 slab nell'inventario, perché ci danno... La possibilità... Mannaggia, boss, boss, stai scappando? Bossa, stai scappando, non mi piace sta cosa. Ciao, 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 ciao! Oh! Sei morto? Ora vado io. No, sono nell'acqua, solo mi sono salvato. L'acqua ti fa salvare, eh? Cioè, come? Sì, sì, se non tocchi terra, l'acqua ti fa salvare. Ok? Mamma mia, sono più veloce di te. No. Eh, vedi? Come? Il karma. Vedi? Mannaggia, mannaggia. Guarda che è lunghissima come la mappa, eh? È lunga, lunga, boss. Le scale non ti uccidono, eh? Boss, stai attento a quello che fai, eh? No, posso! No, io ci rinuncio. Io ci rinuncio. Ma sai che possiamo già iniziare a utilizzare il nostro bonus? Ah, abbiamo le slab. No, boss. Questa è la mia bonus. Allora, boss, ascolta. Noi dobbiamo essere bravi di fare assieme questa cosa. Hai ragione. È lunghissima questa mappa. Mi sono pentito, hai ragione. Sono stato proprio un cattivo amico. Dai, veloci, vieni qua che lo faccio così. Io ti prometto che non lo farò più. Come? Ho un arco con una frezza e lo sto per puntare. No, boss, no, eh. Boss, non puoi farla questa cosa. In questo video contate i boss che dice Marci, ok, ragazzi? Ok, va bene. Ma dove non indurre? No, boss! Oh! Sono morto. No! Ah, di qua devo andare. Ok? Sì, ma se è difficile. No, però questa cosa non è giusta, eh. Mi sembrava corretto che io non morissi qua, eh. Allora, quindi la slab la possiamo usare. Tu l'hai usata una qui. Sì, ma guarda, te l'ho già piazzata, boss. Ma non vai a lungo. Guardami. Ma dai, ma dirmelo prima. Ma te l'ho detto prima, ma tu non mi hai ascoltato. No, dopo mi devi evitare. No, no, usale, usale. Qua? Qua? Non prendere danni. Oh, checkpoint! Ma non sei danno da caduta. Ma boss, ma siamo stupidi. Non abbiamo schiacciato il via, boss. Guarda, vedi? Clicca per iniziare. Eh, vabbè. Non l'avevamo cliccato all'inizio. Non è molto corretta. Adesso tu sei non davanti? No, boss, adesso io riparto da qua. Io non andrei. No, no, questa cosa non è molto corretta da qua. Ecco, vedi che sono... Da, ok, sono ripartito. No! Oh! Da! Infame! Allora, così. Così, almeno abbiamo il timer adesso. Ok, di qua. Ti uccido, ti uccido. Ok, no, boss. Ti uccido che ti faccio cascare il giro della lava. No, boss. E dovrai pregarmi per dirlo. No, boss. Ok, uh! Ma, ma, secondo te quanti boss arriviamo nei commenti? Non lo so, però stiamo un po' usando troppo questa parola, te lo dico. Ok? Aspettami, boss. Ok? Oh mio Dio, aspetta, aspetta. È difficilissimo! Ah, senta, qua la faccio sporca, la faccio. Come sporca? No, 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 come sporca? Sono morto, boss, sono morto io. E qua dove... Ma stai s... No, aspetta, calma. T'ammazzo, 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 t'ammazzo. No, no, siamo amici. Ti uccido, ti uccido, ti uccido. No, no, boss. È la prima volta che arriviamo così in alto, ti prego. Ti prego. E sarà anche l'ultima. No, ti prego. E ti prego. E la tensione. È un po' nabbo qui c'è stato, eh? Guarda, sei veramente imbarazzante, veramente, guarda. Qui c'è stato un po' nabbo. Un po' nabbo. Nabo. È un po' nabbo. Tu sei andato avanti, boss? Sì. Guarda, aiutino. No, 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 no. Dai, no, dai, boss. Ti senti pausa a me prima. Ah, sei morto? Ora me ne vado. No, no. Boss, boss, vai prima te. Togliti, togliti. No, dai, vai prima te. Porca mese. Io non c'entro niente. No, io non c'entro niente, raga. È un masso. Se mi butti giù adesso, se mi butti giù... Eh, io non provererei a venire. Boss, siamo amici, ti prego. Per favore, per favore. Pazzo, pazzo, pazzo. Senza di me non ce la fai. Vai. Non puoi buttarmi giù. Vai, non ti butto giù. Se lo fa uno, ci tippiamo. Boss. Ok. Ma devi andare sulla slablicola di lei. Eh, non me ne frega. Solo per te. Io ho fatto, io l'ho fatto, boss. Ai Dio. Tu non hai il checkpoint, però. Ah, sì, che ce l'ha dato lo stesso. Sai che sto vincendo? Ok, questa mi sembra più facile, eh. Non lo dire. Eccolo, l'ho detto. L'ho detto. Cosa dobbiamo fare qua? Oh. Oh. No, no, scusa. No, no, scusa. Maledetto. Vieni qui. Vieni qui. Lo faccio vedere io. Boss. Cosa? Ho saltato tutto. Ho fatto il dropper. Aspetta. Come? No, dai, no. E rifarlo, dai. Ok, dobbiamo fare il giro lungo. No. 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 Maledetto. Boss. Boss. Ti la devi andare. Ah, è giusto, è giusto come stai facendo te. Hai fatto tutto da solo, io non ho fatto niente. Io ti ammazzo. Io ti ammazzo. Ma non ho fatto niente. Io ti ammazzo, ma hai spinto. Io ti ammazzo, ma hai spinto. Ma non c'entro niente, io. Boss, mi sono apparsa adesso. Giusto? Eh, boss, mi sono apparsa adesso. Continua a morire, perché io la vinco, eh. No, ti prego. Stai, 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 stai un po' più, poi smetti tryhardare, boss. Scusa. Ma chi sta tryhardando? Tu sei tryhardando un botto, boss, eh. Ma chi tryharda cosa chi? Qui mi si è bugato e è stato vivo. Se faccio così, tu. Cosa stai facendo? No, eh, pensavo di buggarla, invece non l'ho bugato. Boss, perché va tutto a fuoco lì? L'ho messo in legno. Ma porca miseria. Ma hai tagliato tutto, hai tagliato. Mi sono stupato. Ma quanti blocchi ti sono rimasti? Due. Come due? Ne due. Più i sedici che ti è andato nuovi? Ne due. Caraca, sta tagliando il tuo car. Ne due. Boss, ma cosa mi combino? Sono dietro di te, perché sono anche morto. Andiamo, andiamo, te ne ho appassato uno. Grazie. Che dobbiamo fare qua, boss? Vai, bravo. Mi sa che in alcuni sono obbligatori. Sono obbligatori, sì, in alcuni sì. Gli ho finiti. Oddio. Oh mio Dio. E qua? Ah, qua devi stare attento, devi stare nell'acqua. Ok? Aspetta, io vado in avanti. Ah, qua devi buttarti in acqua. Siamo? Check? Sì. Si sale! Si sale! Si sale, si pepe. Eh, questo è difficile, eh? Tutti in acqua. No, boss, mi ha ucciso. No, 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 non ti ho ucciso io. Mi ha ucciso, boss, mi ha ucciso. Non è il checkpoint, boss. Cos'è fatto, boss? Si installiamo Minecraft. No, 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 tu l'hai combinata contro di me. Ma cosa ho fatto io? Tu l'hai fatta contro di me. Tu hai giocato sporco. Io l'ho smollata, sì. Hai giocato sporco, hai fatto la cacca. Ma ti sei tippato, eh? Ma ma, ma chi? Ti sei tippato, eh? E qua? Lo giuro su tutte le tappate delle nonne. Questo è quello che mi piace a te. Ma cosa? Oh mio Dio. Fai un labirinto. Agli psicopati ci piace. No, boss, è un labirinto. Cosa devo fare qua? Non è da questo fatto. Eh, non ci può passare. Non ci provare a spingermi. Bravo. Sei anche intellizente. Eh? Guarda con la faccia. Bravo. Io non ho più. No, Marci, no. L'ho sbagliato io. E adesso? Hai ragione. Ah, boss, hai ragione. Qui e qua dritto. Sì. E qua così. Mamma mia, boss, siamo fortissimi. Siamo fortissimi. Dai! Ci siamo. 14 minuti per questa mappa è in difficilissima. Ci siamo. Non ci posso credere. Boss, devo rifare tutto. Non è vero, dai. Boss, devo rifare tutto. Ma io sono sicuro che muore anche... Ma perché io faccio ste map? Io non voglio più fare ste map. Io spero che questo video arrivi a 50.000 mi piace, altrimenti non faccio più video io. Vieni qua. Vieni. Cosa stai facendo? Basta! Dai! Non posso più vivere senza slabio. Io non so se ce la faccio più. Non ce la faccio più, boss. Non ce la faccio più. Nemmeno io, nemmeno io. Ok. E qua cosa... No, qua non mi interessa. Cosa la bassettina? E no, no, anche qua, ragazzi. No, non ce la faccio. Paddy, sei dei nostri cuori. No, vabbè, bella faccia. Mi hai ucciso tu adesso. Ma cosa stai dicendo? No, non è possibile. No, no, perché... No, sono sporato qui adesso. Lo giuro sulle frittelle con lo sciroppo d'azzero di tutto il mondo. No, tu l'hai combinata qua. Tu l'hai giocata contro di me qua, io lo so. Siamo alla fine, boss. Boss, siamo alla fine. Non vedo la fine, io non vedo la fine. Non vedo la fine del tunnel. Non è finito qua ancora? Ok. Sto arrivando. No, boss, no, boss, non puoi adesso. Sì. Sì, dai. Abbiamo detto che se lo facciamo uno, ti posso... Eh? No, non era proprio così, però. Ci siamo quasi, boss. Siamo quasi alla fine. Non ne posso fiumarci. Voglio uscire di qui. Voglio uscire da qua. Dove mai? No, dai, no, eh. Eh, no, eh. Dai, vabbè, giocare. Basta, voglio andare via. Posso, se prima finisco, fai meglio, eh, no. Mi sa che ho bugato qualcosa. Legit. 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 Leggilo. Legit. Ciao, boss. Posso ammazzare? No, no, boss, no. Sì, è vero che ti posso ammazzare, sì. Vieni qui, vieni qui. Vieni qui da me, dai. Grazie. Boss, è colpa tua questo. No, no. Tu dai delle idee strane alla mappa per uccidermi. Ma che stai dicendo? Eh? Boss, io... Hai toccato il lato. Io... Basta. Non ce la fai più. Dai che sono solo 20 minuti che stai registrando. In generale ci mettiamo mezz'ora video. Non ce la faccio più, boss. Sto strippando. Fammi, aspetta, fammi un attimo respirare. Eh, io comunque ti voglio bene per far ste roba. Raga, siamo alla fine. Non è buono esserci. Non sto mentendo, è vero, eh? È tutto vero. Meno male che mi... Penso se mi volessi male. Boss, guarda che manca ancora l'ultimo livello. Eh, io sloggo prima. Dici? Te. Che questi li odio. No, questi qua non li posso fare io. Ok. Ok. Boss. Oh, mamma. Ho una slab rimanente e stanno fortissimo. Ti prego, ti prego. Ti prego, dimmi che ce l'ha finito. Ti prego, dimmi che ce l'ha finito. Come dovrei fare? Così? Devo andare di qua. Ok. Io dopo... Dopo un video del genere devo andare in vacanza tre settimane. Deve essere difficilissimo il pezzo finale. Mamma mia, il mio cervello sta spiegando. No, tu non hai idea. Non voglio saperlo. È veramente difficile, boss. Nel blu, dipinto di blu. Rai e Harding. Ho vinto! C'è scritto che ho vinto! No, no, sei morto. Ho vinto! No, no, ho vinto! Ho vinto io! No, no, no. Sei tornato qua? Guarda, 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 l'ho citto. L'ho citto tutto perché ormai ho vinto. No, 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 no. Ho vinto, vedi, ho vinto. Ho vinto. Ho vinto, boss, ho vinto, boss, ho vinto, boss. Non è vero. Sì, sì. Eh, voglio vedere la scritta che hai vinto. Oh, guarda! Ho vinto. Non la vedo la tua scritta ho vinto. F第一個 domeniero. Chご lo vinto. Hà�.